Mi sono svegliata stanotte, stavo proprio dormendo pesante, io non mi sveglio mai la notte, boom, 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 tre botte proprio pesanti. Ho detto ma che succede? Ho svegliato mio marito e ho detto va a vedere che succede. E se ho visto tutte le fiamme, assurdo guarda, mi sono spaventata tantissimo. Una notte di paura in via Perugia, una traversa di via Marco Peregno. Cinque auto sono andate a fuoco nella notte tra martedì e mercoledì. L'allarme è scattato poco dopo le tre, quando un'auto che si trovava nel parcheggio vicino alle abitazioni ha preso fuoco e le fiamme si sono ben presto propagate. Il rogo ha così coinvolto altre quattro auto in sosta nello stesso piazzale. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno prontamente spento l'incendio. Pare che l'origine del rogo sia dolosa, sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Arezzo. Saranno a breve visionate le immagini delle telecamere private di videosorveglianza. Gli inquirenti infatti attendono le autorizzazioni del caso che potrebbero aver immortalato l'intero episodio. Non lo so, non ho parole proprio per chi si è doloso, non lo so. Poi sono rimasto a piedi, sono completamente a piedi. Che idea vi siete fatti? Cosa potrebbe essere successo stanotte? A questo non lo so, io quando sono scesa ero veramente, forse un film? Sembrava un film perché c'erano le fiamme alte, niente, non lo so, non so cosa descrivere. Si ha paura adesso a lasciare la macchina fuori casa? Noi non ce la lascio fuori casa, ogni tanto ce la lasciavo ma ora non ce la lascio più. La lascio sempre dentro e pace, che dobbiamo fare? Però non si sta mai tranquilli, nemmeno in casa purtroppo, è così. Intanto proseguono le indagini sull'automobile andata a fuoco solamente qualche giorno fa nella notte di domenica in zona Tortaia. I vigili del fuoco stanno appurando se si sia trattato di un atto doloso o meno.